Ciao ragazzi, oggi faremo un video ASMR, cui ti parlerò molto piano, ok? Ok, iniziamo a non ridere del cameraman, iniziamo col prendere gli Alzheimer, sentiamo, aspetta, fa schifo, e questo cuesta, arrivo, prendo una macchina. Sì, avanti Cristo! Ok, non inquadrare il mio zaino! Scusate se c'è rumore di vento, mentre bevo. Non so se è calda, non so se dentro c'è del veleno, però è acqua, chapeau! Sa di limone marcio. Ti ricordo che era un video ASMR questo. Aspetta, aspettate qua, guardate intanto la bottiglia, molto attentamente. Così, così. Cocco bello, cocco! Si va in cocco! Ok, siamo pronti. Ssh! 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 Ti ricordo che è un posacenere. Ssh! Ssh! Avvicinato alla telecamera! Ssh! 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 Aspetta, aspetta, aspetta che devo cercare di togliere via una roba. Ssh! 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 Ssh!